La Casa del Mare e del Borghetto dei Pescatori hanno ospitato la Festa del Mare. L'iniziativa è stata organizzata da Roma Natura e Vivi l'Italia, con la collaborazione della Proloco Mare di Roma. Si è trattato di una festa che aveva come intento quello di promuovere non solo il mare, ma più in generale turismo ed attività ecosostenibili, in un momento in cui l'attenzione per l'ambiente deve essere massima. Presso la Casa del Mare, oltre alle classiche mostre statiche a tema, ci sono state esposizioni di fotografie, sculture e libri, con la presenza dell'Associazione Culturale Clemente Riva. Presenti inoltre due stand, uno del Comitato di Sabilità del Decimo Municipio e l'altro dedicato all'Ucraina, con oggettistica il cui ricavato è andato ai profughi della guerra ospitati nel nostro territorio. Si è svolto inoltre un convegno dal titolo Dal Tevere al Mare e i buoni turismi rafforzano i territori, che avvistano tra gli altri interventi quello del Presidente di Roma Natura, Maurizio Gubbiotti. Per tutto il periodo dell'evento è stato proiettato un documentario sull'aria protetta delle secche di Torpaterno, che peraltro i protagonisti di Veni, Vidi e Bici porteranno fino a Bruxelles. Ma tutta la festa è stata all'insegna dell'ecosostenibilità. Bevande e gastronomia sono state rigorosamente a chilometro zero, con prodotti provenienti tutti da aziende locali. Bandito l'uso della plastica, con piatti e bicchieri di materiale compostabile. Promosso e divulgato inoltre il car sharing, con l'esposizione di un'auto. E' presentata a Clorofilla, una colonnina verde con accessori per intervenire su biciclette normali ed elettriche, con tanto di pompa e chiavi inglesi. E a questo proposito Ossia in Bici ha organizzato anche una passeggiata tra mare e pineta. Intrattenimento musicale e saluti finali hanno poi concluso la tre giorni. Grazie a tutti.